E che quindi finiranno la E che quindi chiaramente servirà per migliorare il canale Dio Paradini Dove sono? Dove? Sono 15 arene che non ne trovo uno Dove cazzo è andato il mouse? Adesso rimanteniamo il board control intanto Eh si Deftus Il ragionamento che ho fatto anch'io è quello Statistiche più alte e sti cazzi Che cazzo c'è? Ho pescato la babbola Ah oddio è giusto A sinistra Lanci No Merda La cazza è sbagliata Vada giù 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 Il segreto A sinistra Ho caduto il segreto Il segreto Vieni sto lanciando cose Non funziona Non ha funzionato Stai cliccando sul Hai cliccato sul Ma va bene Abbiamo fatto una tempo play molto forte Crafteremo Una carta bellissima Per la Molto bella Spero ragazzi che voi siate d'accordo Spero ragazzi che voi siate d'accordo Quell'uomo sarai Che adesso non sei tu Cos'è sta roba? Un coniglio Uccido tutti Dio Perché così lui è buca due piedini Posso fare spreading plug forte In tu campione di roccavento A meno che non faccia Robbe grosse Spreading plug in tu Mind control tech È la giocata più forte del mondo Contro paladino Oh dammi il 5 e 9 Se esisti Gesù Se esisti Dio Santissimo Devi darmi il 5 e 9 Che tutto Tua madre Dio bono Dammi il 6 e 2 La vie La giustizia pretende il castigo La pretende tutta il castigo La pretenderei anch'io PAAA Poli andare in chiesa Ti sta dando i frutti E forse hai ragione amico Bello questo 1-1 Madonna quanto sei un figlio di botana Che lo sapevo Io lo sapevo che sarebbe arrivato Il giorno della redenzione Sarebbe arrivato Il giorno della redenzione Dello sciamano Lo sapevo Che sarebbe arrivato Il giorno della redenzione E adesso aspetto Adesso aspetto Il bella giocata Adesso lo aspetto il bella giocata La coin la teniamo Luca Perché facciamo il menestrello Conosciuto anche come La verità No non puoi aver fatto Non puoi Ma veramente E va veramente solo lui A costo 2 Cioè l'ha draftato All'inizio Perché se no Quello Avete presente Cioè l'ha draftato Ma no, 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 non puoi, ma cosa hai draftato, ma perché la gente si droga, ma perché ha lasciato il tringuino e un whisper, a turno 1, ha pure value sta cosa. Ma chiaramente hai misplayato Poli, vieni punito, perché tu non sei come tutti gli altri, che se misplayano non gliene frega un cazzo. Tu sei l'unico stronzo, che se misplay, vieni punito fino alla morte. Mentre io, ziokan, quando gli altri fanno le giocate di merda, vincono sempre. Viva Cristo, evviva Cristo, evviva Cristo, ho lanciato la tastiera, ziokan, è pesa sta tastiera, eh. Andiamo di corvo, andiamo di rune, andiamo faccia. Lui prende, attacca, trada, almeno gli portiamo il trade. Eh, lo so, mio, ma io ho sette carte in mano e io ho vinto, lo sai. Minion di merda. Hai visto, stavolta. Perché l'unica cosa che mi fa rimanere adesso in live in questo posto di merda, contro Gesù, è la mia fottuta vita del cazzo. È sto merda di coso, di Twitch. L'unico motivo per il quale sono ancora qua è perché so che c'è gente che mi piace. Porco, ho spagato il mouse, no. Grazie a tutti quelli che vogliono, eh vabbè. F***! Eh, ma il ragazzo qua però ha un contro, dai. Sto giocando contro gente che ha tutto in curva di mana. Tutto in curva di mana, c'ha sta gente. Adesso io giocorò il Murlock, il Hero Power. Adesso io faccio il Murlock. Tiro Power. Lui. Non devi uccidermi 2-5. Oh. Ci sono 2-2. Va bene. Sì, ma il discorso è, regà. Io sto sprecando una madonna di risorse e lui c'è ancora la coin. Perché ha counterato ogni singola nostra giocata. Ogni nostra singola giocata. Dio. Ogni singola giocata. Se prendi la statua, no. Ma in control. Stato all death. Silence. Top deck B. Tu stai scherzando. Mi auguro. Tu stai scherzando. Questo. C'è. Tu stai scherzando. Tu stai scherzando. Ti stai scherzando. Ti stai scherzando. statue noi non voglio musica c'è il deck contro il paladini quattro statue ci ha fatto grazie faroth fa mega piacere i tuoi certi complimenti carissimo eh amico mio io streamo porco non streamo più io non streamo più non streamo più tranquillo che non mi vedi più il streaming accidenti è un conto mouse è un conto Grazie a tutti.